risanamento del bacino idrografico del fiume sarno riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione trasformazione degli impianti di depurazione in fabbriche verdi e risparmio energetico sono queste le principali macro azioni raccontate da gori nel bilancio di sostenibilità 2022 il documento di rendicontazione non finanziaria in cui l'azienda risponde attraverso numeri obiettivi anche alle sfide più urgenti dei nostri giorni. Il quarto anno che presentiamo il bilancio di sostenibilità che è un documento trasparente e dà la possibilità di verificare tutti i progressi che la società ha fatto rispetto agli anni passati. Oggi presentiamo il quarto bilancio di sostenibilità e abbiamo deciso di farlo in questa nuova modalità non solo abbiamo coinvolto le associazioni la stampa i portatori di interessi esterni ma abbiamo pensato di rendere protagonisti i nostri colleghi con i loro piccoli perché riteniamo che questi risultati siano i risultati prima di tutto delle nostre persone ed è anche giusto che le famiglie e i ragazzi che si vedono privare dei propri genitori per tante ore al giorno sappiano che il lavoro che fanno i loro genitori ha un impatto diretto sulla natura e quindi sull'ambiente e quindi si renderanno conto delle varie azioni che facciamo faranno un percorso anche educativo oltre che divertirsi insieme. Qui presso il nostro impianto di depurazione di Scafati abbiamo organizzato un vero e proprio percorso sostenibile si tratta in realtà di un viaggio attraverso i nostri progetti principali le azioni principali su cui stiamo lavorando e che sostanzialmente poi rappresentano anche i quattro capitoli del nostro bilancio di sostenibilità quindi azioni per l'acqua, energie per il sarno, rinascita verde, risparmio energetico saranno le quattro aree tematiche che i nostri visitatori potranno vivere e potranno conoscere meglio grazie alla disponibilità dei nostri colleghi che operativamente sono quotidianamente su questi progetti ma anche grazie ad attività esperienziali vere e proprie.